Mercoledì pomeriggio al Pinobar di Fano sono stati presentati ufficialmente i 24 candidati della lista Civici Fano. Una squadra variegata con rappresentanti di varie categorie a sostegno del candidato sindaco Luca Serfilippi presente durante l'incontro che è stato moderato dal consigliere regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi. È stata presentata la lista di Civici Fano che cosa ne pensa di questi candidati? Una lista fatta di tante donne e uomini che hanno deciso di impegnarsi per la nostra città. Noi abbiamo presentato un programma ben definito di tanti punti che troverete sul mio sito e abbiamo bene l'idea di chiare in testa che vogliamo della nostra città di Fano. Per migliorare Fano però abbiamo bisogno del voto dei fanesi quindi mi auguro che i fanesi vogliono cambiare e migliorare la nostra città scegliendo appunto la nostra coalizione per Fano. Oggi abbiamo presentato una lista civica perché io lo ripeto sempre sono il candidato di tutta la coalizione per Fano di cui fanno parte tutti i parti di centrodestra e anche due liste civiche. In caso di vittoria qual è il primo punto saliente che si andrà a toccare? I consigli di quartiere perché abbiamo bisogno di riavvisinare le persone, le donne e gli uomini di tutte le età dai giovani agli anziani alla vita pubblica della nostra città. Il nostro programma è sostanzialmente il programma di Luca Serfilippi e vogliamo appunto con i nostri candidati dare attuazione a questi punti perché i nostri candidati sono persone che provengono dalla società civile e dal lavoro, persone di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali e sostanzialmente daranno nel concreto una buona mano per concretizzare anche quello che è il programma di Luca e di tutta la coalizione.